e buongiorno stamani pioggia battente ma noi non ci ferma neanche uno tsunami 3 ecco buongiorno ragazzacci la mattinata inizia bene però speriamo che finisce meglio qui ne abbiamo un altro e poi qua ne abbiamo ancora un altro vediamo se riesco a prenderlo questo un altro qui sotto ecco anche se piove ne abbiamo trovato un altro ecco questo non è male questo non è male affatto o chi lo sa bianco voletus edulis è un voletus edulis è tutto un zuppo d'acqua ed eccone un altro sotto le foglie anzi sotto le frasche guarda che bello che è questo i funghi sotto l'acqua e un altro si nasconde sotto il sasso eccolo qui tra l'allero anche bellino simpatico che sto fungo qui eccone uno nascosto sotto la terra mamma mia dov'era proprio nascosto questo questo è bello però è nascosto sotto la terra appena spuntava ed eccone due uno è un po' mangiato e spunta nella boraccina eccolo da chi lo tolve questo qui si è tutto agguantato alle radici questo è uno e questo è l'altro se si è siamo sopra quattro centimetri anche cinque sicché li possiamo tranquillamente raccogliere e io ne vedo altri due eccoli eccoli qua sono due gemelli due gemellini due si è mesi sono attaccati insieme e un altro ancora si nasconde sotto le foglie eccolo qua un altro boletus edulis è lì l'epiccino è un piccino è perché ci sono proprio cascato davanti col naso praticamente ci ho picchiato una nasata questi sono i falsi chiodini di foloma fascicolare però sono carini ma sono tossici tossici eccolo qua un altro è qui che si nasconde tra le foglie bagnate ecco un altro ecco un rosso un finofilus un finofilus non potevi vedere guarda che bello guarda che bello un bel rosso vediamo un po massimo che ha trovato che ha trovato massimo guarda che c'è là sotto la ciocca del vernacchio guarda là dov'è è murato deve essere murato vai tira tira faccelo vedere via faccelo tocca mica male no anche giovane giovane sia e appena maggiorenne eccolo qua nascosto dopo tanto si riesce a trovarne un altro ecco questo è bello sì questo è un bel fungarello vedi meno male via nella c'è un po che eravamo a digiuno di funghi o di funghi questo è un fungo bello questo qua e ce n'è un altro bello e un altro è nascosto qui dentro anche questo non è male massimo eccolo qua un altro però questo qui è un po ammalato dove aveva febbre tutta la telecamera mio buon dio sotto ad un tronco d'albero un po mangiato è questo ha fatto ha fatto da pranzo alle lumachine e questo l'ho visto dall'alto ma davvero lì spicco spicco solo solo che aspettava solo me Matteo guarda questo bello e un altro è qua questo ha fatto questo l'ho visto dall'alto anche questo anche questo non male e qui ce ne sarà sempre oh si scivola mamma mia dicevo eccone un altro ma si scivola troppo sono certe spondate ripide qui che ci vuole ramponi corde chiodi imbracatura mamma mia come si scivola non è che ci faceva qua che ci faceva qua tutto solitario e anche questo è mio vai avanti tutta ed eccone un altro questo è carinissimo c'è anche il cappello c'è il fazzoletto in testa e poi c'è accanto c'era anche un idunum repandom o steccherino però è piccolino che ci faccio niente ti lascia grazie a tutti grazie a tutti